Riccolate che reggevano così bene da ben due giorni e me le avevano fatti con questo, quindi ho detto deve essere così, per forza ce la vedevano durare anche stavolta. Raga ve lo giuro è stata la prima volta che mi è durata una piega fatta dal parrucchiere perché di solito io quando esco c'è manco il tempo di uscire che ho già i capelli lisci se richiedono la piega liscia. E mamma si arrabbia perché dice che cosa ci fai a fare dal parrucchiere se poi esci che sei liscia? Io in per terra ritengo a andare. E invece l'ultima volta a Milano facendomeli con questo coso mi hanno stupito, cioè sono durati veramente tanto finché non li ho lavati. Ora però non mi ricordo che se erano precisamente così appena fatti, non mi pare. Sicuramente però erano molto chiusi e durante la notte poi è avvenuto il miracolo che sono diventati bellissimi, quindi ora li apro e aspettiamo la notte porta consiglio, no la notte porta miracoli. No decisamente non erano così. Aspettiamo comunque di vedere il risultato domani e altrimenti li leggo e ciao ciao.